Ciao raga, nel video di oggi parliamo di un argomento un po' particolare, una cosa che non tratto spesso e che sono sicuro alcune persone prenderanno sul personale anche se non è minimamente un attacco a loro e sì, ho questa felpa morbidissima della Paul Frank perché sono abbastanza stanco, dopo voglio andare a dormire e quindi sono in questo outfit molto morbido, molto comodo lasciamo stare, iniziamo come immagino chi mi conosce meglio già sappia io sono stato in passato, potremmo dire, un hater di Apple ma da un annetto a questa parte, da quando ho iniziato a comprare e a provare i loro prodotti ho capito che in effetti molte delle critiche che gli stavo facendo erano completamente infondate questo fatto eccezione per qualche critica ma in particolare una, con l'acquisto dei dispositivi Apple che ho adesso quindi un MacBook Pro e soprattutto le mie AirPods Pro mi è ancora più chiara e anzi è anche peggio di quanto pensassi e questo non perché il MacBook sia esente da questo difetto ma più perché questo è un dispositivo che funziona benissimo anche da solo senza problemi strani mentre le AirPods hanno bisogno per forza di qualcosa con cui funzionare che sia un telefono o un computer sono di fatto un accessorio più che un prodotto a sé stante credo che molti di voi siano già arrivati a capire di cosa sto parlando quindi basta girarci intorno parlo di tutte le penalizzazioni che Apple mette ai propri prodotti quando li sperano ad utilizzare con altri prodotti della concorrenza ad esempio un telefono Android con delle cuffie di Apple appunto io ho un Galaxy S10 anche se passerò presto da iPhone 12 e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi così vedrete video anche su quello quando esce al day one e abbinarlo con le mie AirPods è stato traumatico a dire poco ora questo video non è una spiegazione di come funzionano le AirPods Pro con Android potrei farci un video in futuro, non lo so, vedremo oggi voglio parlare delle limitazioni che Apple ha chiaramente messo in posizione per invogliare i clienti che comprano un loro prodotto a comprare anche tutti gli altri e qua è importante subito fare una grossa differenziazione non sto parlando di funzioni premium che Apple non ha speso risorse extra per inserire in altre piattaforme lo posso capire quello sto parlando delle basi che sono standard nell'industria e che Apple ha appositamente rimosso da queste cuffie insomma per capirci non parlo di avere un pop-up con la batteria anche su Android o nel menu del Bluetooth avere tutte le impostazioni disponibili sono cose quelle che per essere implementate richiedono soldi e tempo e posso capire per quanto magari non sia d'accordo che Apple non volesse metterle appunto non sto parlando di queste funzioni sto parlando di quelli standard che si vedono su ogni cuffia wireless sopra i 15€ e che Apple appositamente ha rimosso vi faccio giusto qualche esempio per capirci meglio ogni paio di cuffie wireless che io abbia mai visto nel menu del Bluetooth permette di vedere la carica rimanente inoltre non è possibile in alcun modo integrare l'assistente Google con queste che non richiede che software particolare basta creare l'integrazione che è 3 secondi netti quindi ogni cuffia lo ha qui no ovviamente funziona solo Siri solo quando è collegata a dispositivi Apple e anche la stabilità su Android di queste cuffie è un trauma un trauma regà perché si scollegano, si ricollegano ogni tanto se vogliono ogni tanto perché non vengono più riconosciute e il fatto è che queste cuffie hanno il Bluetooth 5.0 che può tranquillamente gestire e risolvere questi semplici ma gravi problemi è solo che Apple non vuole che lo faccia appunto queste sono solo alcune funzioni che le AirPods non hanno e ogni altro paio di cuffie wireless esistente ha ma andiamo avanti prendete Siri ad esempio anche non dalle cuffiette non può controllare nessun tipo di riproduzione musicale se non quella di Apple Music cosa che invoglia chi ha dispositivi Apple come un MacBook Pro a comprare Apple Music rispetto a Spotify o beh qualsiasi altra soluzione in realtà ora qualche fanboy Apple potrebbe arrivare a dirmi beh le AirPods sono loro quindi fanno come gli pare ok magari saranno anche loro le AirPods e faranno come gli pare però se loro possono fare così io mi sento in diritto di chiamare questo un atteggiamento assolutamente contro quelli che sono i diritti fondamentali dei consumatori anzi ancora peggio dei loro clienti perché io sono un cliente Apple io ho comprato queste cuffie e merito l'esperienza migliore possibile che possono fornirmi indipendentemente da qualsiasi altro dispositivo io voglio utilizzare anche perché questo è un prodotto ultra premium proprio quasi di lusso e quando accoppiate a un dispositivo non Apple non hanno senso davvero per nessuno a parte per chi vuole solo lo status symbol di andare in giro così se a qualcuno davvero interessa cosa che credo che a molta gente interessi alla fine immaginatevi una cosa del genere in un'altra industria prendiamo quella automobilistica immaginate che un brand a cui comprate una macchina produce anche pneumatici se voi non montate sulla macchina di quel brand gli pneumatici di quel brand non funziona più il cruise control l'aria condizionata lo schermo touch centrale tutte cose che non c'entrano nulla con gli pneumatici perché questo è quello che sta succedendo con l'AirPods Pro e tantissimi altri prodotti di Apple in generale per essere molto chiari e corretti Apple non è l'unico brand da accusare di questi comportamenti tutti i player principali lo fanno Google, Samsung, Microsoft ma a mio parere a copertino in questo sono dei leader purtroppo quindi per quanto possa essere insignificante questo è il mio appello fottute multinazionali del valore di miliardi e miliardi di dollari trovate il modo affinché i vostri clienti possano avere l'esperienza migliore possibile quando comprano un vostro prodotto o quantomeno non andate nel senso opposto non cercate di ostacolare l'esperienza solo perché hanno scelto anche qualcos'altro che non è della vostra piattaforma so che questo non cambierà nulla però spero almeno di aver fatto riflettere voi a riguardo e quindi mi piacerebbe tantissimo anche parlarne nei commenti sul mio server Discord o nel gruppo Telegram che ho c'è tutto quanto in descrizione ovviamente sia per chiarire dubbi che parlarne in maniera pacifica e cordiale insomma è civile soprattutto questo era tutto per il video di oggi davvero vorrei tanto sapere cosa ne pensate ma lasciate anche un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto seguitemi su Instagram Pietro Mamei c'è il link in descrizione oppure mi cercate e beh sono lì noi ci vediamo lunedì alle 13.30 con un nuovo video bella raga ciao 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 ciao